La gara 5 che dirà chi fra Calzedonia e Sir Safeti potrà accedere alla semifinale Scudetto. Non sono bastate quattro sfide fino ad oggi per dire che è la più forte domani sera lo scontro. Da dentro o fuori il servizio è di Moreno Castellani. E' arrivato il momento del dentro o fuori per la Sir Safeti nei quarti di finale playoff Scudetto. La quinta sfida di domani sera in casa del Verona dirà chi delle due compagini merita di andare alle semifinali per il titolo tricolore. Sarà il caso di ricordare il cammino di questi spareggi dove il fatto di giocare in casa o di intrasperta alla fine ha contato relativamente. Verona avanti poi raggiunta poi superata in casa e quando era il momento di piazzare la schiacciata vincente in un pale evangelisti stracolmo nel giorno di Pasqua il flop che rimanda tutto a domani. Coi tie break che l'hanno fatta spesso da padrone per decidere le sorti degli incontri a dimostrazione che le due squadre si assomigliano anche nei pregi e nei difetti e che il passaggio del turno si giocherà proprio sul filo. La Sir ha dalla sua il fatto di non essere più impegnata nelle coppe mentre Calzedonia da questo punto di vista arriva più affaticata ma anche con un ritmo gara ed una tensione agonistica maggiori. Pari anche qui come la storia di questi playoff ha dimostrato. Domani sera sapremo chi è dentro e chi è fuori. Domani 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 Grazie a tutti.